Perché sono un uomo, esco liberamente. Perché sono un uomo, faccio quello che voglio. Perché sono un uomo, la tengo lontana dalla strada. È decisamente meglio farla stare a casa. Le faccende domestiche sono la responsabilità della donna. Tanto è casa tutto il giorno. L'uomo si sforza al lavoro. Perché lei dovrebbe lavorare? Lei dovrebbe crescere figli. Io faccio soldi, perché sono un uomo. Educo mio figlio in modo che sia come suo padre, perché suo padre è un uomo. Una ragazza non dovrebbe praticare sport. Sono stato educato così. Perché sono un uomo, ho deciso di rompere questo ciclo. Ho incoraggiato mia figlia a praticare sport finché non è diventata una campionessa. L'ho aiutata a crescere i figli affinché abbia la sua opportunità a lavoro. Mi occupo delle faccende di casa con lei e apprezzo il suo sforzo. Mi sono preoccupato delle istruzioni di mia sorella fino a quando non è diventata dottoressa. Credo nelle capacità delle mie colleghe e mi fiedo di loro. Perché sono un uomo, ho riconosciuto il suo ruolo nella società. Perché sono un uomo, mi sono opposto alla violenza contro le donne. Mi sono preso cura di lei proprio perché sono un uomo. E hai capito che uomini e donne hanno gli stessi diritti e doveri. Perché sono un uomo.